Lo hanno colto in flagranza con borsoni carichi di centraline elettroniche, parti meccaniche ed attrezzi vari per svantellare le autovetture. L'altra mattina l'Andrea e i carabinieri hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un sorvegliato speciale di 48 anni del luogo, accusato di ricettazione in osservanza degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria e possesso ingiustificato di Grimaldelli. I militari andriesi, nell'ambito di un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio in transito incontrata a Coppe Tremiglia, si sono accorti della presenza di un individuo che in tutta fretta trasportava dei borsoni prelevati dall'interno di un casolare per riporli nel cofano di una Volkswagen Passat. In sospettitisi, li sono andati incontro e restisi subito conto che stesse facendo qualcosa di illecito, anche perché l'auto su cui stava caricando i borsoni era priva di targhe, lo hanno bloccato prima che potesse darsi alla fuga. Nei borsoni, tre in tutto, i militari hanno rinvenuto 21 centraline elettroniche di avviamento di autovetture di varie marche e modello. Mentre nel cofano erano già stati caricati due estrattori, due cruscotti completi di contachilometri e chiavi di accensione, un gancio per trainare mezzi, un tester elettronico ed un jammer per inibire le comunicazioni radiotelefoniche, il tutto sottoposto al sequestro. Gli accertamenti svolti tramite la centrale operativa sul conto della Passat in suo possesso hanno permesso di appurare che la stessa era stata importata illecitamente sul territorio nazionale dalla Germania. Immediatamente è scattato il fermo per l'uomo che, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, è stato rinchiuso in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la provenienza di quanto rinvenuto ed eventuali proprietari.